Questa domenica ritorna la passeggiata in bici a Pietravairano San Felice, raduno in Piazza Taverna alle ore 9.30. Vieni anche tu, la passeggiata in bici. Ritorna la passeggiata in bici, vieni a pedalare con noi a Pietravairano San Felice. Il raduno parte da Piazza Taverna alle ore 9.30. Vieni anche tu, ti aspettiamo.